No veramente no, non mi va, ho anche appuntamento a bar con gli altri, sai ma che tipo di festa è? No no no, allora no, no no, non ci vengo, no non ci vengo perché già lo so come va a finire, tutti quanti a ballare, il giro tondo e io sto là, lì in un angolo, no 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 no, no non vengo, no non vengo, che dici ci vengo? No ma poi dai no, si nota, sto lì, il disparte, sto messo lì, la facciata alla finestra, contro luce, no no, che poi tutti quanti voi che dite, Michele, Michele dai vieni, no no si, si vi raggiungo dopo, dai vieni, no no no, dopo, dopo, dai vieni, si si vengo, no no non vengo.